carissimi fratelli carissime sorelle amici cari buona giornata a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita oggi è 31 marzo si conclude un altro mese e vogliamo essere grati a dio per come ci concede la possibilità di ritrovarci insieme per leggere la sua santa parola e per meditarla brevemente leggeremo un verso del nuovo testamento in particolare leggeremo nell'epistola di paola ai romani al capitolo 16 al verso 19 dove l'apostolo scrive quanto a voi la vostra obbligienza è nota a tutti io mi rallegro dunque per voi ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati nel male questo invito è un invito che viene rivolto ai credenti a tutti quanti noi affinché la nostra condotta possa essere una condotta che rallegra il cuore di dio e che onora la buona testimonianza dell'evangelo dobbiamo essere quindi innanzitutto saggi nel bene dobbiamo essere cioè prudenti assennati e dobbiamo agire per il bene e agire nel bene con la saggezza che viene dall'alto sì perché abbiamo bisogno di essere guidati dal signore anche quando facciamo il bene perché se non agiamo secondo la guida del signore noi probabilmente ci ritroveremo nei guai e allora ascoltiamo la voce di dio perché il signore ancora oggi istruisce i suoi figli e lo fa principalmente innanzitutto e prima di tutto mediante i consigli che noi possiamo trovare nella sua santa e benedetta parola per questo nel libro dei proverbi al capitolo 19 al verso 20 e leggo dalla riveduta è scritto ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della tua vita accogliamo l'istruzione di dio nel nostro cuore ascoltiamo i consigli della parola del signore lo so spesso nel mondo si fanno cose in modo diverso da come la scrittura insegna e delle volte si ottengono risultati più immediati rispetto a quelli che ubbidendo alla scrittura ci vengono richiesti ma quello che è importante è che nel fare le cose le facciamo secondo la volontà di dio perché allora tutto sarà per il bene nostro e di chi il bene da noi riceve e tutto onorerà in nome del signore dio ci aiuti cari ad essere saggi a saper ascoltare l'insegnamento biblico perché come dice l'apostolo paolo a timotio ciò che è scritto è scritto affinché qualora paolo dovesse tardare dice a timoto ma io qui mi permetto di dire qualora il signore dovesse tardare a venire noi sappiamo come dobbiamo comportarci nella casa di dio che è colonna e sostegno della verità saggi dunque saggi nel fare il bene saggi nel parlare perché in tempi come questi diceva amos il saggio tace perché i tempi sono malvaggi e dio ci ria grazia di sapere quando dobbiamo tacere perché è importante parlare certo ma dobbiamo parlare al tempo opportuno e dobbiamo tacere quanto ciò quando ciò è necessario e che ci può e chi ci può aiutare a saper stabilire quando bisogna tacere quando bisogna parlare la guida della parola di dio la guida dello spirito santo del signore gesù in certi momenti rimase in silenzio ma non perché non sapesse cosa dire egli è la parola di dio ma perché quello è il momento in cui tacere signore aiutami a saper trattenere la mia lingua quando ciò è buono affinché l'opera tua e la testimonianza soprattutto del tuo evangelo possa continuare ad essere una luce in questo mondo e un sale in questa terra saggi dunque saggi perché ci sappiamo anche conservare dalle cattive amicizie perché fratelli e sorelle noi dobbiamo avere amici ed essere amici di tutti ma dobbiamo ricordarci che l'intimità non può essere condivisa con chi agisce in modo stolto e quindi potrebbe infangare in qualche modo la nostra vita spingendoci verso il peccato e verso la corruzione di questo mondo chi va con i savi diceva salomone se lui è l'autore del libro dei proverbi chi va con i savi diventa savio ma il compagno degli insensati diventa captivo signore aiutaci a saper essere compagni intimi amici di quanti sono saggi saggi secondo la parola di dio saggi nel fare il bene saggi perché guidati dalla dallo spirito santo del signore quindi l'auspicio dell'apostolo paolo è quello che i romani fossero saggi nel bene ma anche che fossero incontaminati nel male cioè non mescolati non si lasciano spingere verso il compromesso col male restano tali nonostante le possibili o le reali persecuzioni a cui sono sottoposti d'altronde gesù lo disse io vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate prudenti come i serpenti e semplici come le comlombe ci dobbiamo conservare puri cari perché i tempi sono sempre più difficili e anche nell'ambito dottrinale religioso ci sono tante tanti tentativi da parte del nemico delle anime nostre di sedurci affinché scadiamo dalla semplicità paolo lo scriveva nella sua epistola ai corinzi temo che come il serpente sedusse eva con la sua astuzia così le vostre anime vengono scorrotte sviate della semplicità ma dio ci dia grazie di essere semplici incontaminati nel male perché in questo modo saremo irreprensibili figli di dio limpidi senza macchia in mezzo ad una generazione corrotta nella quale dobbiamo risplendere come astri saggi nel male incontaminati saggi nel bene scusate incontaminati nel male e possa la grazia di dio in questa giornata accompagnarci affinché possiamo agire in modo da onorare il nome del signore dio ci dia saggezza dio ci dia purezza e dio ci aiuti a essere ancora oggi completamente resi nelle sue mani affinché gli possa guidare i nostri passi che la grazia la pace l'amore la presenza del signore ci accompagni ancora oggi dio ci benedica insieme